Capitato sul far della sera, presso la soglia di una vecchia abbadia, da quei monaci gravi senti cantare l'ora di compieta e dalla voce del padre priore intesi l'orazione finale. Visita o Signore questa tua abitazione e allontana le insidie degli spiriti cattivi, i tuoi angeli abitino in essa e la custodiscano in pace. In quel momento sotto il suono dell'ultima campana mi parve di vedere tanti angeli che uscendo dall'alto si raccoglievano in tutte le famiglie l'ultima benedizione della giornata. È tornato la camera mia nuda, come una cella, chiudendo l'uscio e accostandogli scuri, tremavo dalla gioia che mi dava il sapere, quasi anzi il vedere, che avevo rinchiuso un angelo proprio tutto per me. Così Cesare Angelini